... volevo salutare Pina, Pina, al nome di tutto il comitato, a Luca, a Simone vabbè, posso saluto a tutti quanti per mi rimane un mattino? vabbè, ora approfitto prima che la frontescia la cosa probabilmente se le cose non cambiano domani mattina alle 9 sintonizzatevi su Rai 1 dovrei uscire io in diretta a Rai 1 domani mattina fino a sto momento tutto ok in diretta per una manifestazione di Teleton invitato da amici di Caserfa e vado a fare questa cosa si chiama mio figlio comunque domani mattina Rai 1 Rai 1 E la mamma voglia scegliero una bella E' sempre a presa ma voglia voltare E la mamma voglia scegliero una bella 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.